Come Regione cercheremo di mettere in campo ogni forma di misura che possa ridurre l'impatto sociale ed evitare questi licenziamenti, quindi da parte nostra metteremo il massimo impegno e certo aspettiamo la convocazione del tavolo al Mise perché in effetti questo piano industriale va rivisto perché è un po' carente. Così l'assessore alle politiche lavorative della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, all'attere dell'incontro che c'è stato ieri pomeriggio a Penne, a convocarlo i sindaci dell'area Vestina, i quali tutti i giorni toccano con mano le criticità che sono costretti a vivere i lavoratori dell'azienda Brioni. Durante il tavolo tecnico è stato chiesto a Regione di attivare, presso il Mise e il Ministero del Lavoro, tutti gli strumenti per tutelare i lavoratori e l'avvio dell'iter dell'istituzione dell'area di crisi complessa sul distretto Tessile Vestino. Dietro una persona licenziata c'è una famiglia, quindi noi come Regione faremo la nostra parte, metteremo in campo una serie di misure, sono pronti 35 milioni per l'intera Regione Abruzzo per mantenere i livelli occupazionali, incentivare l'assunzione ma anche possibilità di ricollocare e soprattutto dobbiamo avere soluzioni a livello fiscale affinché nuovi imprenditori possano investire sul nostro territorio. Intanto, sempre nel pomeriggio di ieri, il Presidente della Regione Marco Marsilio era al lavoro per far sì che della prossima carta degli aiuti di Stato sia inserita anche l'area Vestina. Gli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 è un atto propedeutico del quale dipende, tra l'altro, l'operatività di alcune importanti norme di agevolazione, quali, ad esempio, il credito d'imposta agli investimenti, uno strumento importante per ridurre i divari di sviluppo tra i territori dell'Unione Europea. Questi stabilimenti devono continuare ad essere operosi, cioè oltre che a contenere il danno, a noi interessa che resti una realtà industriale. Per questo credo che in tutti gli strumenti straordinari di aiuto e di abbattimento del costo del lavoro, di incentiva all'investimento industriale, ci sarà certamente pena l'area Vestina. Presenti anche i sindacati rappresentanti RSU che hanno chiesto a Brioni e dal gruppo Caring la possibilità di continuare a produrre nello stabilimento di Montebello di Bertona, sia camicie che malie, o comunque riversare la produzione di altri prodotti nel territorio vestino per compensare la perdita di 321 posti di lavoro, oltre alla possibilità di valutare l'estensione degli ammortizzatori sociali in genere.